ok andiamo avanti ragazzi voi non potete capire il caldo che c'è oggi ah non c'è il piano via foglie brune bello testi let's go allenatore nascosto valedetto 1 game Allora di nuovo a questa sera E lui è andato bene Allora di nuovo E lui è andato bene 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 Scusate un attimo È importante E lui è andato bene 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 Allora, è andato bene E lui è andato bene No, non è vereno, mi ha cambiato titolo, è vero. È vero che mi ha cambiato titolo. No, non è vero, non è vero. Allora, torniamo un attimo su, vorrei non essere dimenticato nulla. No, non è vero, non è vero. Vedi, mi ero dimenticato un po' di roba. 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 No, non è vero. Per lo male che non è molto efficace. No, non è vero. 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 Grazie a tutti. Pura totale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Piuma bella. Sì, chi è? Sì, ma se mi fai una domanda e non mi lasci rispondere, allora non me la fare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una strage? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Godurioso. Godurioso. Grazie a tutti. 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 che ha già fatto male quindi devo eliminare anche tutti gli altri va bene sarà fatto questi sono gli ordini il 3 mandato Le piacciono i certi inti Perfetto 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 Senti Perfetto 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 Pronto lt Perfetto Sì, deve essere un indicio. Sì, è vero? Sì, già passa di me, vero? Sì, è 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 vero? Sì? Sì, è vero? 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 Lo regge, lo regge? bene, peccato per la paralisi, non lo raggio più bene, eh, doveva andare così, ho perso un bel po' di piccioli, questo è grave, posso andare a depositare, ma io c'ho una mappa, ma potrei venireci dopo, non lo so, E che cos'è infestato? E che cos'è infestato? Il mio povero ninja! Mi riprendo Talonflame! E che cos'è infestato? Esploriamo il villaggio! Un momento no! Il ricorda Mosfer! Mi sa che alla fine dovrà insegnare a Lucario forza, non ho molta scelta! Qua al massimo vengo qua e gliela cancello! Almeno fa dovrà! E che cos'è infestato? E che cos'è infestato? E che cos'è infestato? Ehm, sì! Grazie! E' gentilissimo! E che cos'è infestato? POKEMON! Una dozzina! Tu correi da dire! Allora, prima di continuare... Andiamo di qua! .... Ordina... ... Cambiamo strategia... Dai, coraggio. Voglio la rivincita. Stavolta è un due contro due. Nitro carica. Anche se piove. Non cambia di tappo. L'oraggi lo, l'oraggi. Bravo, l'oraggi. Bossa. Terapia di scato. Nati paralisi. Perfetto. Rivincita. Grande. Stavolta sono stato troppo bravo. Voi non potete capire. Non perdo contro il capo palestra, perdo contro di lei. Incredibile. Allora, io vi ringrazio. Vi auguro tante cari cose. Vi ricordo come sempre che potete iscrivervi al canale e rimanete sempre aggiornati su tutto quello che pubblico. Sia qui su Twitch che con YouTube. Tante cari cose. Fate bravi, non fate sicurezza. Ci vediamo domani sera in live e le live le carico sul canale YouTube. Ciao.